Esposizioni esclusive sulla porcellana di Capodimonte, manufatti raffinati delle fabbriche di terraia dei Del Vecchio e dei Giustiniani. Napoli partecipa alla manifestazione nazionale Buongiorno Ceramica con un ricco programma di eventi e mostre inedite presentate questa mattina nel cellaio del Real Bosco di Capodimonte. La porcellana di Capodimonte, questa produzione di altissimo livello internazionale, va ritrovata. Non è che è mai stato perso perché le collezioni del Museo di Capodimonte sono enormi. Ma oggi si rifà un legame fondamentale con l'Istituto Castelli e il Museo di Capodimonte. La storia è il giorno contemporaneo, il mondo nostro e il mondo del passato. Questo si riscrive oggi che è una giornata storica. Una tradizione che nasce a Napoli nel 1743, che offre diverse opportunità di lavoro. Noi stiamo sostenendo con un investimento molto consistente i laboratori esistenti, quanti vorranno misurarsi con l'arte e la cultura della porcellana che è un tratto non solo che trova un mercato molto sviluppato nel nostro paese, ma che ha un grande interesse in altri continenti, in altri paesi. Insomma, occupazione, qualità, lavoro, investimenti garantiti su un tratto identitario della nostra città. Da giovedì 17 a domenica 20 maggio sarà possibile ammirare le più belle raccolte di porcellane conservate nel Museo e Real Bosco di Capodimonte, presso il Museo Duca di Martina in Villa Floridiana, e visitare le nuove collezioni degli allievi dell'Istituto ad indirizzo raro Giovanni Caselli, ubicato nell'antica struttura della Real Fabbrica delle Porcellane di Capodimonte. Noi siamo in prima linea su un doppio fronte, quello dell'istruzione, della formazione, noi formiamo, siamo l'unica scuola accreditata, i futuri maestri artigiani e artisti della porcellana di Capodimonte, allo stesso tempo siamo detentori del marchio storico della porcellana di Capodimonte, dal statuto del 1961, quindi i nostri prodotti hanno il giglio borbonico e proseguono quella che è la lunga tradizione della porcellana di Capodimonte, continuiamo a farlo con delle linee di produzione che sono anche in vendita, ma attenzione sono delle linee di produzione che hanno uno scopo culturale fondamentalmente. Noi crediamo che sia fondamentale investire nella progettazione contemporanea, infatti abbiamo delle relazioni, riattivato ecco, delle relazioni con grandi artisti internazionali e con grandi designer. Tutto questo lavoro lo stiamo anche ricostruendo all'interno di un progetto, quello del Museo Didattico della Ceramica e della Porcellana di Capodimonte, che è luogo di studio e al contempo anche luogo di presentazione di quelle che sono le attività che noi facciamo.